Sempre partita dopo partita, però io come allenatore sono molto soddisfatto di vedere una squadra come la nostra dove siamo l'Europa League, dove siamo nella Coppa e dove siamo anche in campionato perché si parla di tante squadre che sono così forti, però noi ancora siamo là ancora giochiamo una partita di tanta intensità al livello che abbiamo giocato che tutti dicono che è stato uno dei migliori Napoli in questi due anni o ultimi anni credo che come allenatore mi piace vedere la squadra giocare per 70 minuti a questo livello e dobbiamo, come ha detto Raul, ancora lavorare per migliorare la gestione di questi ultimi minuti Napoli con le stesse intensità e capacità di aggredire l'avversario che abbiamo mostrato contro la Lazio o che abbiamo mostrato contro l'Inter Sì, pensiamo che una delle squadre più in forma del campionato è la Lazio che gioca una partita alla settimana e noi andiamo a giocare là in trasferta e siamo meglio che loro e lo facciamo bene e creiamo tante occasioni e dopo arriva l'Inter, una delle squadre più forti del campionato italiano, del calcio italiano e facciamo 70 minuti di controllo totale con 7 palenette per vincere o extravincere e credo che come allenatore mi sembra che domani possiamo vedere una squadra con fiducia una squadra con intensità e se giochiamo bene possiamo anche fare qualche gol Io ho detto a gennaio che parlerò a aprile, questa è un'intervista di un mese fa dove ho detto quello che ho detto tante volte, quando mi parlano della nazionale spagnola quando mi parlano del Liverpool ho un giornalista francese che mi fa una domanda sul mio futuro il mio futuro ancora non è deciso, sono molto contento qua aprile devo decidere, chiaramente devo parlare con la gente che deve sapere tutto questo però oggi non ho nessuna offerta, non ho nessun interesse particolare solo farlo bene domani contro la Dinamo Mosca e dopo domani la domenica a Verona tutte queste cose è la stessa risposta che ho dato prima e la stessa risposta che ho dato a loro che esce oggi in francese, che è diverso però la nazionale spagnola era là Liverpool era là, credo che il discorso è sempre lo stesso aprile parliamo, mentre arriva aprile provo a vincere qualche partita per 70 minuti stratosferico o 90 minuti stratosferico ma ci proviamo